il gioco the first set ha problemi riguardo al crash e l'errore questo qua il fatal error quindi in questo caso se riscontri problemi come l'errore UE-M1 Steam ovviamente se provi ad avviarlo ti crasha e ti si apre così la schedina di Lisi Antichit e poi esce pure il fatal error quindi in questo caso è crashato il gioco perché non sopporta così i driver della tua scheda video oppure il processore che sono obsoleti quindi sono vecchi quindi vanno aggiornati e riprovare ad avviare il gioco quindi in questo caso possiamo prima andare sulla rotella del gioco qua sulle impostazioni vai su proprietà vai su file installati sfoglia i file locali ed ecco qua la cartella M1 35,7 giga binarissimo in 64 scendiamo fino a giù fino a trovare lm1.64.shipping.exe in questo caso se hai problemi con questo file cancella direttamente questo file un'olta fatto cancella anche la cartella DirectX 12 chiudiamo un attimo qua e fa la verifica integrità dei file del gioco per ripristinare così i file nella sua cartella e provare ad avviare il gioco mentre sta facendo così la verifica dell'integrità dei file andiamo direttamente sui link che ti ho lasciato in descrizione quindi ci sono i file quindi ci sono le applicazioni di Nvidia e quello di AMD quindi per Nvidia App l'applicazione che ti permette di aggiornare i driver per la tua scheda video vado direttamente su Nvidia l'applicazione quindi tu scarichi la beta e la installi vai direttamente su driver e vedi se devi fare qualche aggiornamento come puoi vedere qui ci sono aggiornamenti che hanno fatto direttamente sul gioco quindi dei driver che ho scaricato direttamente per il gioco The First Sentence eccolo qua vai qua cerchi così un aggiornamento driver game radio oppure driver studio come puoi vedere sta scaricando un aggiornamento del 16 di luglio quindi io lo scarico lo installo e riavvio il sistema la stessa cosa che puoi fare anche su AMD io non ho una scheda grafica AMD ho un processore AMD quindi quello che devo fare è scaricare direttamente un driver per il mio processore in questo caso tu scarica i driver di Windows oppure cerchi qua il tuo prodotto fai la ricerca e scarichi quel driver se non dovesse funzionare andiamo direttamente su Windows Update quindi verifica disponibilità aggiornamenti gli ultimi aggiornamenti sono stati installati quindi verifica disponibilità aggiornamenti cerchi così gli aggiornamenti da fare e vedi e ti fa installare qualche aggiornamento e poi riavvia il sistema chiudi un attimo qua due file non sono stati convalidati e verranno riscaricati hai riscaricato così quei driver quei file là che abbiamo cancellato nella sua cartella tasto destro sopra su start e qua sul logo di andiamo su gestione dispositivi scendiamo fino a giù fino a trovare schede video la mia scheda video aggiorna driver per cadere nel computer e scegli da un elenco di driver disponibile metto questo faccio avanti e installo così driver per la mia scheda ora in questo caso andiamo direttamente sulla rotella proprietà di nuovo file installati sfoglia i file locali il file è tornato tasto destro sopra mostra attribuzioni proprietà compatibilità e segui questo programma come amministratore ovviamente il gioco non devi non avviarlo su desktop quindi avvia prima steam e poi vai nella tua libreria e avvia il gioco e fai gioco si è avviato pure come amministratore l'isi anti cheat funziona inizializzazione in corso perché io tengo sempre tutti i driver aggiornati faccio sempre aggiornamenti su windows update cancellate pure i file temporanei i file cache che si trovano direttamente su esegui per cento fai tempo fai ok entri in questa cartella e cancella tutti questi file immondizia che non ti servono ed ecco che il gioco si sta avviando senza nessun problema per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video fammi sapere se hai risolto il tuo errore oppure se riscontri altri problemi puoi commentare sempre sotto al video me lo dici e io cercherò di realizzare altre guide a riguardo in alto a destra nelle schede ci sono altre guide sul gioco su come risolvere gli errori riguardo all'isi anti cheat che non funziona oppure non si avvia proprio il gioco quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao grazie a tutti